Il 3 marzo ci sarà l'udienza finale del processo Dout Des. Ieri è stato ascoltato l'ex vicesindaco del Comune dell'Aquila, Roberto Riga, che ha smentito l'episodio della confezione di grappa con dentro 10.000 euro. Tra l'altro, dei sette imputati, è l'unico che ha rinunciato alla prescrizione. Vicesindaco, all'epoca del Comune dell'Aquila, Roberto Riga, si era dimesso dopo lo scandalo sulle presunte tangente dietro i lavori di puntellamento possisma. che avevano portato lo stesso ex primo cittadino Massimo Cialenti a dimettersi in un primo momento. La penultima udienza, si diceva, del processo relativo all'inchiesta Dout Des, che nel 2014 aveva portato all'arresto ai domiciliari di quattro persone, l'ex consigliere comunale Pierluigi Tancredi, l'ex assessore alla ricostruzione dei beni culturali Vladimiro Placidi, Daniela Sibilla, collaboratrice di Tancredi, e l'imprenditore abruzzese Pasqualino Macera. Riga, assistito dagli avvocati Carlo Benedetti e Giuseppe Nero Carugno, ha accettato di sottoporsi all'interrogatorio. Debo dire che coraggiosamente Roberto Riga ha scelto di essere interrogato dal pubblico ministero e coraggiosamente ha scelto di propria iniziativa di rinunciare alla prescrizione che in questo processo è già maturata da tempo, parliamo di fatti del marzo, aprile del 2010. Credo che comunque abbia fatto bene, doveva questa risposta alla città e all'opinione pubblica. Non dimentichiamo che all'epoca dei fatti Roberto Riga svolgeva una funzione pubblica, un ufficio pubblico di grande rilevanza. Ecco, su che cosa avete puntato per quanto riguarda chiaramente la difesa dell'imputato? Certo, l'assenza di ogni riscontro, l'ipotesi dei 10.000 euro che viaggiano attraverso più mani in una bottiglia di grappa credo sia molto suggestiva, ma non rappresenti la realtà effettuale. Anche la realtà processuale oggi possiamo dire che dice altre cose e non dice quello che ovviamente è stato sostenuto fin dal primo momento. Ricordo che questo fatto andò in prima pagina a livello nazionale e meritò la pubblicazione su giornali di rango internazionale come l'Herald Tribune addirittura.